Sì, diciamo che gli ordini del giorno ormai ieri erano strumentali. Sella ha voluto aiutare il PD a allungare i tempi solamente per arrivare oggi probabilmente a rinviare il caso genovese a dopo le elezioni. Il problema è non perdere le 20.000 preferenze che il genovese può portare ai parlamentari del PD. Quindi noi ci chiediamo se questa sia una cosa accettabile in una democrazia. Ci sembra che sia un voto che bisogna fare immediatamente. Se vogliamo farlo facciamolo anche palesemente così non possono raccontare i nostri colleghi del PD che vogliamo nasconderci dietro al voto segreto. Quindi la nostra scelta è di votarlo immediatamente e poi andare avanti con i lavori.